benvenuti eccoci qua in california per il primo giorno di session con le registrazioni insieme alla produzione del mio album con simon phillips benvenuti al phantom recording studio dove abbiamo bevuto un ottimo caffè e siamo già alla world editing con grandissimo simon. Hi simon. Say hello. Ahaha, hello. Here we are.